Ciao ragazzi, benvenuti alla nuova live. Sul mio canale, nuovo episodio, nuova puntata su calciomercato, scorsi giorni non li ho fatti, ma ritorniamo oggi, visto che non facciamo un po' di giorni la live sul calciomercato, notizie di mercato, quelle delle ultime ore, anche e soprattutto quelle di ieri, molto molto interessanti, e anche qualcuna uscita in queste ultime ore. Iniziamo subito ragazzi, iniziamo subito perché ieri ho già annunciato il nuovo allenatore dell'Everton, si erano fatti tanti nomi, era partito il casting della panchina dell'Everton dopo l'esonero di Rafa Benitez, Benitez che è stato esonerato, sono fatti tanti nomi, Gattuso, Rune, Martinez, l'allenatore del Belgio, il Belgio che non l'ha lasciato partire perché c'è un progetto, c'è un mondiale da fare in Qatar tra novembre e dicembre, non l'ha lasciato partire. Alla fine la scelta è ricaduta a Duncan Ferguson che sarà l'allenatore interim, fino a ieri il Tottenham, l'Everton ha contattato Giuseppe Morigno, Giuseppe Morigno che ha rifiutato la panchina dell'Everton perché è concentrato al progetto della Roma. Duncan Ferguson adesso è il nuovo allenatore dell'Everton, che condurrà la squadra fino a che non c'erano un allenatore, in questo momento è un allenatore interim dell'Everton. Poi andiamo avanti con le altre notizie di mercato, quella di Mario Balotelli, sembrava una voce, invece non è più una voce, lo ha anche confermato l'allenatore del Demispor dove gioca Mario Balotelli che Newcastle è interessato al giocatore. Ci ha lasciato anche un indizio l'allenatore di Mario Balotelli, un indizio che ci dice che Balotelli sul contratto ha una clausola rescissoria, che nessuno non lo sapeva. Che clausola avrà? Chi lo sa. Però intanto Newcastle sta pensando all'attaccante italiano. Questa sarebbe una grandissima opportunità di Balotelli, Balotelli che conosce benissimo il campionato inglese perché ha giocato al Manchester City dove ha vinto con Roberto Mancini, è andato a Liverpool, un capitolo che non è andato molto bene, un anno poi in prestito e un progetto fallito diciamo quando è andato a Liverpool, non ha reso come aveva reso al Manchester City. Sarebbe un ritorno per lui, ritornare in Premier, sarebbe una nuova sfida perché Newcastle si deve salvare. Ha preso Trippier, ha preso già un attaccante dal Burnley che è Hood, sta facendo ottimi colpi per questa sessione di mercato, gli arabi, il beef. E Balotelli potrebbe rilanciarsi e anche sperare in una convocazione per marzo, visto che l'Italia rivediamo che c'ha il playoff. Per Balotelli e soprattutto per Roberto Mancini serve una notizia perché almeno va in un campionato molto molto competitivo rispetto a quello della Turchia. Andiamo a vedere anche i dati di quest'anno di Mario Balotelli in Turchia. Sarebbe un'ultima spiaggia per Mario, chi lo sa, vediamo. Tanto andiamo a trovare Mario Balotelli. Transfer Market, eccolo qua. Adesso lo condivido. i suoi dati di quest'anno in campionato turco. Ecco qua, Balotelli. 18 presenze, 7 gol e 2 assist. Un'ottima media, diciamo, dai. Non è male come media. Però ha troppi cartellini, 7 ammunizioni. È un problema suo, è un difetto che purtroppo ha Mario, che deve un po' migliorare su quello. Però la media è molto molto interessante. 7 gol, 2 assist in 18 partite. Prima punta. Se Newcastle lo prende, è un'ottima fare. È un'ottima fare. Soprattutto per Mario, che andrebbe in un campionato molto competitivo, come ho detto prima. E sarebbe la sua chance per dimostrare che Balotelli è maturato e che sta tornando quel campione là, che da giovane ci aveva lasciato qualche segno. Ricordiamo che ci ha portato in finale all'Europeo contro la Spagna. Ci ha portato al Mondiale 2014. Ci auguriamo tutti. Io stesso, io voglio Balotelli nazionale e spero che vada proprio in Premier. Me lo auguro per Mario. È un'ottima occasione che non deve lasciare sfuggire. È vero che è una sfida molto molto difficile, perché deve salvare una squadra come Newcastle, ma anche il Demisport era una sfida molto interessante per salvarli e sta facendo un ottimo campionato là, perché non lo può ripetere anche in Premier League con Newcastle. Bisogna anche vedere il livello, perché è il livello come riuscirà Mario a competere in quel campionato, perché in Premier si corre e Mario è, ricordiamo, c'è anche un po' il fisico, ma bisogna anche vedere anche quello. Però, se fossi in Mario, accetterei l'offerta e andrei in Premier. Poi, andiamo avanti. Andiamo avanti su un'altra notizia, perché la Stone Villa di Steven Gerrard è impazzito con questo mercato. Gerrard ha chiesto Digne, l'hanno preso. Ha chiesto Coutinho, lo hanno preso e ha chiesto un attaccante che lui conosce bene, che ha giocato con lui in squadra ai tempi del Liverpool e sto proprio parlando di lui. Luisito Suarez che quest'anno con l'Atletico Madrid non sta viaggiando come l'anno scorso. un altro giocatore che conosce molto bene il campionato della Premier, ex Liverpool anche lui, come Mario Balotelli, sarebbe un colpo. Un colpo importante per la Stone Villa che dà anche un segnale per il futuro. Una squadra che vuole puntare l'anno prossimo anche qualcosina in più la competizione europea o la conference l'Europa League. Cioè, ragazzi, ha preso Digne, ha preso Coutinho e sta provando anche a prendere Luisito Suarez dall'Atletico Madrid che quest'anno non con Simone non è che si sta si stia trovando molto bene rispetto all'anno scorso, eh. Andiamo anche a trovare i suoi dati di quest'anno. da Transfer Market ecco qua, condivido, condivisione, share screen, window, no, aspetta, Luisito Suarez ecco qua, 34 anni, bisogna anche dire che ha 34 anni chissà quanto può incidere in in Premier per lui in tanti lo danno il giocatore per finito. Quest'anno in Champions ha fatto sei partite un gol, quel gol l'ha fatto proprio col Milan sul calcio di rigore, in Liga 19 presenze scusate, sette gol, due assist e cinque ammunizioni. Cinque ammunizioni. stanno attaccando come lui sai anche l'età però ti aspetti che già è in doppia cifra dopo 19 partite. Ma bisogna vedere anche come rende perché come ho detto prima l'età vedi Ronaldo o Cavani non è che stanno segnando a raffica in Premier. Però sai sappiamo che Steven Gerrard lo conosce lo ha avuto come compagno insieme a Coutinho e si ritornerebbe la coppia che ha fatto innamorare ai tempi quei tempi là Liverpool Coutinho e Suarez quell'anno dove Liverpool ritornò in Champions League se non erro dopo quell'anno Suarez fece anche 30 passagol vincendo la Scarpadoro con il Liverpool. Vediamo come si svolgerà la trattativa nei prossimi giorni intanto Steven Gerrard la sua richiesta lo ha fatto e lo vuole nella sua squadra. Adesso torniamo anche a parlare della Serie A del nostro campionato le notizie del mercato che sono uscite ieri purtroppo ieri non funzionava Twitter ieri sera e non ho potuto dare le notizie e le ho date solamente oggi ma ne parliamo anche qua in live insieme ai miei ospiti Adesso andiamo sul Cagliari perché il Cagliari è interessato a Michael Ibisher dello Young Boys gli svizzeri chiedono 4 milioni si potrebbe concludere nelle prossime ore l'affare del giocatore Ibisher che io sinceramente non lo conosco non l'ho mai visto giocare andiamo a vedere insieme a voi i suoi dati di quest'anno vediamo anche che il campionato svizzero non è la Serie A per un altro campionato però mai dire mai chissà potrebbe anche rivelare una una grande rivelazione un grande acquisto il Cagliari che deve fare anche colpi interessanti per la salvezza Ibisher ha fatto anche la Champions League con la con la Young Boys ecco qua Michael Ibisher condividiamo share screen sempre transfer market ha vinto ha vinto più lui che tutta la rosa del Cagliari 5 trofei scade il contratto nel 2023 l'anno prossimo è un classe 97 25 anni altezza 1,83 posizione difensore centrale mi sembra no centrocampista ho detto centrale qua sopra pensavo difensore invece no fa il centrocampista il mediano ha fatto 6 presenze in Champions 2 assist poi ci sono quelle delle preliminari non so se queste sono queste sono dei gironi nei gironi i Champions hanno fatto 6 partite 2 assist nei preliminari i Champions hanno fatto 5 partite un gol 2 assist poi in campionato 15 partite 2 reti 4 assist e questa sarebbe la Coppa la Supercoppa non lo so Coppa Svizzera ecco c'è scritto pure 2 partite una rete e un assist un giocatore di esperienza e questo deve fare il caglio non prendere le figurine giocatori a fine carriera come Martin Kass Skodin Skodin che è andato via ricordiamo si pensava che si poteva fare uno scambio con Biraschi poi alla fine Skodin è andato in Brasile Kass un altro che lo danno come partente questi acquisti deve fare il cagliari gente di esperienza che dà qualità alla squadra il cagliari aveva un'ottima rosa anche per competere per l'Europa per la conference peccato che quest'anno gli è girato tutto male tutto male e stanno lottando per la per la salvezza mi dispiace mi dispiace soprattutto per i forzi sardi perché il cagliari non merita la posizione che merita dove si trova tutto per la rosa che c'ha speriamo che potrebbe concludere l'affare Michael Ibisher che porta qualità le a centrocampo 4 milioni ragazzi 4 milioni è un affare poi andiamo avanti andiamo avanti Torino in Napoli rimanendo sempre sul tema Cagliari però sono due squadre che stanno monitorando la situazione Nandez Torino e Napoli vogliono Nandez Nandez che sappiamo vuole andare via già in estate voleva lasciare Cagliari voleva andare all'Inter poi all'Inter non non si fece nulla poi lui e la società sono parlati la società gli aveva promesso che se l'Inter presenterà un'offerta ti cederemo all'Inter in questo momento non sta pensando a Nandez del Cagliari ma ci sono due squadre il Torino e Napoli Nandez un giocatore suntuoso un ottimo giocatore può giocare in diversi ruoli ma deve giocare nel suo ruolo naturale centrocampista non esterno di centrocampo perché non è il suo ruolo non è non è non è il suo ruolo non può fare quel ruolo là deve trovare nuovi stimoli Torino Napoli chi lo sa potrebbe potrebbe rendere a Napoli forse sì perché Napoli sta cercando un centrocampista il Toro con Juric potrebbe rendere potrebbe fare molto bene Juric quest'anno al Torino ha fatto un gruppo e sta valorizzando tanti giocatori che l'anno scorso non non rendevano al Toro chi lo sa forse Nandes andando lì potrebbe trovare la continuità che a Cagliari non lo sta avendo quest'anno perché per problemi che sappiamo una squadra che mezza squadra che se ne vuole andare via la squadra che si deve salvare Nandes vuole puntare a qualcosa di più infatti lui voleva andare all'Inter all'Inter non si fece nulla adesso c'è Napoli e il Toro deve scegliere lui o rimanere al Cagliari o andare o al Torino o a Napoli che si sta lottando per la Champions e per l'Europa League andiamo a vedere anche i dati di Nandes di quest'anno andiamo a vedere Nandes Nathan Nandes l'uruguaiano Transfer Market è un classe 95 aspetta che condivido ecco qua classe 95 26 anni quest'anno lui ha fatto 17 partite e 2 assist poco pochissimo lui va beh lui fa l'hanno messo come mai centrocampista esterno ma lui nasce come centrocampista centrale nasce lì lui quel ruolo fa quel ruolo quel ruolo fa e mi dispiace che al Cagliari l'hanno messo in quel ruolo lui è stato preso dal Boca Juniors per 17 milioni e poi è andato al Cagliari che non ha riso tanto quello che si vedeva al Boca poi guarda guarda anche i dati di quest'anno vediamo vediamo cosa può succedere nei prossimi giorni per Nandez andiamo avanti su un'altra notizia aspettate un attimo che vado chiudendo la porta eh eccoci ragazzi scusate ma avevano aperto la porta e sono andato solamente a chiudere poi andiamo avanti sempre rimanendo sempre sul tema Cagliari ancora perché Cagliari vuole chiudere col Torino per Vaselli nelle prossime ore potrebbe essere conclusa l'affare il giocatore dovrebbe fermare un contratto di sei mesi con opzione biennale in caso di salvezza Vaselli è un giocatore che al Toro non ha più reso dopo l'infortunio è un giocatore che si è un po' perso mi ricordo che era un talento molto molto interessante da seguire peccato peccato che poi l'infortunio che ha avuto in questi anni lo hanno un po' fermato lo hanno un po' bloccato non ha più reso perché era un giocatore molto interessante e c'era una squadra che lo seguiva mi ricordo il Milan tre anni fa che lo seguiva lo voleva pure il Milan dei cinesi Mirabelli Fassone ma poi non si fece nulla però era un giocatore che veniva seguito dai club interessanti l'Inter Napoli il Milan la Romance non erro tanto tempo fa e dico non adesso perché adesso è un giocatore che è fuori forma potrebbe andare a Cagliari dove ritroverebbe il suo ex allenatore Walter Mazzarri potrebbe rilanciarsi lì me lo auguro perché è un giocatore che a me mi piaceva un sacco io al Fanta Calcio lo prendevo sempre e mi segnava era un giocatore che segnava sempre segnava è un giocatore campista a Goliador io me lo auguro che cambi cambi aria per trovare spazio e per trovare la serenità ritornare a quel giocatore che che era vi faccio vedere quest'anno poca roba ha fatto Paselli se non se non sbaglio Paselli aspetta guardate che adesso vado a cercare non è più giovane diciamo anche questo che non è più giovane Daniele Paselli transfer market ecco qua kit share a 92 come ho detto prima non è più giovane il giocatore va anche in scadenza scadenza in 2022 ha fatto solamente 5 partite quest'anno Juric e Juric sta facendo una una evoluzione al Toro il Torino molto probabilmente non rinnoverà il contratto con con Belotti con Paselli sono tutti giocatori della vecchia gestione dei vecchi allenatori che andranno via vediamo che è andato via Sirico dal Toro faccio vedere anche il ruolo che può coprire il giocatore può fare il mediano il centrocampista centrale e il trequartista vedete se riesco a trovare gli infortuni che ha avuto quest'anno che è un giocatore che è stato sfortunato però sono trasformato e non riesco a trovare gli infortuni che ha avuto in questi anni beh vabbè non riesco a trovarlo va bene vediamo vediamo comunque il Cagliari sta pensando al giocatore questo potrebbe anche concludere nelle prossime ore poi andiamo dalla Selerinitana perché ho due notizie due notizie ma prima di andare a dare quelle notizie vi vi comunico che Gianpaolo ha firmato con la Sampdoria si aspetta comunicato con i blu cerchiati Gianpaolo firmerà un contratto di sei mesi più l'opzione di un anno e mezzo in caso di salvezza in caso di salvezza rinnoverà intanto firmerà un contratto di sei mesi più l'opzione del rinnovo del contratto in caso di salvezza Gianpaolo che ritorna a Sampdoria vuole rilanciarsi dove dove ha reso bene perché Gianpaolo alla Sampdoria ha fatto le ottime cose ricordiamo per quello il Milan lo ha preso perché alla Sampdoria si vedeva gioco è una squadra che quando giocava con le big era ti faceva paura metteva metteva ansia alle squadre giocavano molto bene bisogna anche vedere come giocherà perché quella Sampdoria di quest'anno non è proprio una rosa da 4-3-1-2 che Gianpaolo usava 3-4 anni fa quando era là poi è andato al Milan al Torino due squadre che Gianpaolo ha fallito che non ha avuto la possibilità di dimostrare di essere un ottimo allenatore non un allenatore da provinciale gli auguriamo tutto il meglio di fare bene alla Sampdoria come ha avuto la carriera Casperini Casperini dopo il Genova ci ricordiamo Casperini primo Casperini al Genova dove ha mandato il Genova in Europa League poi è andato all'Inter ha fallito è andato al Palermo ha fallito è andato non mi ricordo con l'altra squadra non erro non mi ricordo poi è ritornato a Genova a Genova il primo anno del suo ritorno ha centrato ha quasi centrato l'Europa League a Genova quell'anno le due Genoane sono arrivati davanti alle milanesi quell'anno è stato un anno disastroso 2014-2015 per entrambi milanesi invece è stato un anno bellissimo quello dei genovesi dopo Genova è andato all'Atalanta e l'Atalanta abbiamo visto quello che ha fatto chissà può prendere l'esempio di Gasper il caro Giampaolo ha fallito al Milan ha fallito al Torino potrebbe rilanciarsi al Genova e poi andare in una squadra fare una favola stile Gasperino Atalanta mai dire mai comunque in bocca al lupo al maestro e mi spiace che il Milan non ha potuto rendere non ha potuto dimostrare il suo gran gioco perché è un allenatore che tanti ci hanno detto che è molto tattico pensa molto molto alla tattica che sta su 20-24 ore al computer o per analizzare per pensare alla tattica è uno che con la testa è bravo poi sul campo con le big con il Milan non ha non ha reso non ha reso purtroppo adesso andiamo alle ultime due notizie quella della Salernitana quella della Salernitana allora la Salernitana sta pensando a due attaccanti la notizia una quella della notizia è uscita ieri e quella e quell'altra è uscita proprio oggi andiamo prima quella di ieri perché la Salernitana ha avviato contatti per Eder ex giocatore dell'Empoli Brescia Cesena Sampdoria e Inter se va alla Salernitana sarebbe la sesta squadra di Serie A che giocherebbe la Salernitana con la nuova proprietà con Sabatini come direttore sportivo stanno facendo qualcosa a gennaio per provare a salvare la squadra la vedo molto molto difficile però nel calcio mai dire mai i miracoli li abbiamo visti l'abbiamo visto l'ultimo è stato il Crotone ce lo ricordiamo chi lo sa che la Salernitana non possa ripetere quello che ha fatto il Crotone hanno preso un ottimo dirigente come Sabatini che di calcio ne capisce più di tutti quanti è andato lì non è uno che interessa ai soldi è uno che Sabatini è uno che piace ama il calcio va dove va o alla Samp o al Genova o dove è stato poi alla Roma al Palermo ricordiamo al Palermo quello che ha fatto è al Palermo ha scoperto tanti quei giocatori là uno tra quelli Edison Cavani la Salernitana sta facendo vuole fare ottimi colpi ha avviato i contatti e il giocatore ha dato la disponibilità di ritornare in Serie A gioca in Brasile a San Paolo e chissà se va alla Salernitana quanto può rendere il giocatore in Serie A e chissà anche un gol all'Inter di Suning ricordiamo questi due anni le dichiarazioni di Eder contro Suning io sono curioso poi poi tralasciandole adesso questa cosa andiamo sull'altro nome l'altro attaccante vuole fare un attacco stellare la Salernitana sta pensando pure a Diego Costa Diego Costa Diego Costa Sabatini che lo voleva già al Bologna ricordiamo che lo voleva già ai tempi del Bologna poi non si fece nulla non si fece nulla perché Mialovic scelse Arnantovic e chissà potrebbe riuscire a portarlo a Salerno sarebbe un un colpo simile alla Ribery una Salernitana che sogna in grande poi è vero che sono acquisti di figurine però la Salernitana se vediamo la rosa che hanno non è una rosa da da Serie A non hanno un giocatore che ha esperienza a parte a Ribery però a Ribery ha 38 anni invece Gio Costa mi sembra che ha aspetta fate vedere quanti anni ha se non era un classe 88 87 però un giocatore di esperienza uno che ha fatto finali di Champions Europa League e vediamo in Serie A sarebbe anche un ottimo colpo 33 anni un classe 88 può rendere e vediamo che gioca in Brasile all'Atletico Miniero per la piazza sarebbe importante per la piazza Salerno dopo quello di Ribery io me lo auguro me lo auguro me lo auguro anche che la Salernitana possa lottare fino a fondo alla salvezza almeno per rendere competitivo il campionato anche in zona salvezza e non in zona Scudetto Champions la zona salvezza la vogliamo molto più vivace che si lotti fino alla fine della giornata non solamente due club ma barra 4-5 squadre mi piacerebbe mi piacerebbe che la Serie A ritornasse quella Serie A di una volta che si decideva tutta all'ultima giornata queste sono state le notizie di oggi sono state poche però meglio poche che niente intanto rispondiamo alle domande con di voi Pesi è già è già in partenza o stasera potrebbe giocare la Sampdoria ha già giocato ieri ragazzi uno tu forse mi stai dicendo potrebbe giocare stasera in Coppa no Sensi dovrebbe essere in partenza già verso Genova per fermare un contratto con la Sampdoria presso secco sarebbe una possibilità per lui per per trovare spazio perché all'Inter quest'anno non troverebbe spazio soprattutto perché è un giocatore che si deve sbloccarsi mentalmente ragazzi è uno che ha avuto troppi infortuni appena sente qualcosa di leggero lui subito si si paurisce è uno che ha paura uno che ha paura di farsi male anche per una cosa stupida e lui mentalmente non ci sta con la testa appena sente un dolore piccolo piccolo un strappo vuole subito il cambio bisogna che il giocatore si sblocchi si sblocchi soprattutto mentalmente perché il talento ce l'ha e l'abbiamo visto il sensi dall'Inter nel primo anno quei 3-4 mesi che giocatore era ve lo ricordate poi ha avuto l'infortunio ha perso la titolarità e non si è più ritrovato alla Sampdoria potrebbe ritornare il giocatore che abbiamo visto al Sassuolo e all'Inter quei primi mesi e sono curioso di vederlo anche con Giampaolo perché è un giocatore che con lui può rendere per me ha fatto la scelta giusta lasciare l'Inter andare in una squadra in prestito per vedere se posso rendere e dare qualcosa in più al calcio italiano ma anche l'anno prossimo per vedere se posso dare molto di più all'Inter andando la Sampdoria per sei mesi è un giocatore che si deve ritrovarsi se stesso e non pensare ah no mi sono fatto male non posso più giocare no il giocatore deve stare calmo 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 infatti lui per queste cose qua piccole ha perso pure l'Europeo perché sennò lui avrebbe vinto l'Europea quella nazionale bisogna dirlo me lo auguro me lo auguro presenze che vada e si ritrova e si ritrova mercato Milan mercato Milan ragazzi per la difesa Tan Canca ve lo ricordate che chi c'era in live due settimane fa l'avevo detto l'avevo anticipato che il Milan sta pensando pure a Tan Canca del Tottenham e ieri gli hanno parlato in tanti taglia figo Napoli taglia figo Napoli Napoli non è che Napoli è interessato ma è stato il suo agente che lo ha offerto al giocatore vediamo vediamo nei prossimi giorni vediamo nei prossimi giorni se Napoli afferra il colpo oppure oppure no taglia figo poca roba ecco questo ve lo dico onestamente vediamo se ci sono altre domande vabbè Harry tu tu sei un got Faina questo qua mi dissocio anzi Faina in Harry Harry out dobbiamo fare questo perché Faina è una persona molto molto brava anzi è più esperta di me io sono solamente un dilettante ragazzi e lo devo anche ammettere io ho solamente riportato delle cose se so ma io scherzo sì 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 lo so lo so di DJ lo so che scherzo lo so e niente ragazzi se non avete altre domande queste qua sono state sono state le notizie ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito cosa ne pensi della della Juve Diego gol 2004 della Juve ieri ho visto la partita la miglior partita della stagione della Juve bisogna dire la miglior partita ha giocato ha giocato a pallone stranamente ha giocato a pallone ha creato tanto ha avuto un maggior possesso palla e si sta ritrovando tralasciando la sconvita della Supercoppa italiana però in campionato sta avendo continuità e occhio io domenica lo temo temo molto la Juve temo molto la Juve perché vincendo riaprebbe la corsa la corsa Champions e bisogna vedere come arriviamo noi del Milan mentalmente psicologicamente per quello che è accaduto lunedì con lo Spezia io me lo auguro che il Milan vinca però sarà una partita molto molto equilibrata non pensate che il Milan vince a mani basse e non bisogna sottovalzare la Juve Allegri è un grande allenatore lo reputo un top allenatore e penso che la Juve in Champions ci arriverà per me è uno tra Atalanta o Napoli rischiati di non andare in Champions ma potrebbe anche rischiare il Milan perché se perdiamo con la Juve rischiamo molto ricordiamo che il Milan nel prossimo partito ha la Juve e il derby rischiamo molto però il Milan vince lo stesso chi lo sa vediamo 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 vedere perché con il Genova in Coppa Italia non mi è piaciuto un tanto con lo Spezia abbiamo giocato bene meritavamo di vincere ma abbiamo sprecato tutte quelle occasioni il Milan arriva quinto se perde domenica non lo so devo vedere la classifica aspetta un attimo non so se arriviamo quinto se perdiamo aspetta Milan classifica in Serie A il Milan ha 48 punti no ragazzi no 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 perché il Milan ha 48 punti la Juve ha 41 però se vince va a 44 e riapre veramente la Corsa Champions dice alla fine va non lo so vediamo vediamo al massimo al massimo arriva a terzo mi sa vediamo vediamo comunque ragazzi io vi devo salutare devo anche andare a mangiare è stata una piccola live ma come faccio sempre sul calcio mercato faccio sempre o un'oretta o 40 minuti poi rispondo anche a qualche domanda che mi fate dalla chat e niente comunque anche agli amici di Youtube che pubblicano la live anche lì commentate fatemi domande mettete anche mi piace ringrazio a tutti quanti e adesso faccio ancora da qualcuno vediamo chi c'è in live per fare un ride e segui ride OCV mi porto da OCV ragazzi dai salutate da parte mia salutate ragazzi Perché io non so se è partita. Comunque vi saluto. Ciao ragazzi. Grazie.